L'amministrazione De Paoli è entrata nel suo secondo anno di attività proprio in questo mese di luglio. A poco più di un anno di distanza dalla sua elezione, giudica positivamente o negativamente il lavoro del sindaco di Pavia? Ma io penso positivamente, in quanto Pavia è una bellissima città, solo che ci sono i pro e i contro come tutte le altre città. Pavia è appunto una città piena di turismo, infatti abbiamo girato anche dei film con giapponesi, cinesi, insomma un po' di tutto. L'unica cosa che non va bene in Pavia, mi deve perdonare signor sindaco, ma sono le strade e le persone che guidano, perché ci sono stati molti incidenti stradali in questo periodo. Beh allora io dico, a posto siamo, ma perché succedono queste cose, punto di domanda, ci stiamo chiedendo perché? Non pensa che sia più una responsabilità però dell'automobilista piuttosto che del sindaco? È una responsabilità dell'automobilista, solo che ovviamente neanche le strade secondo me non sono adatte, insomma. Ritengo per la mia conoscenza così positiva. Positiva? Sì. Cosa l'ha convinta di più? Ma mantengono certe cose come sono state promesse e poi soprattutto per adesso il controllo sull'ASM, che è una cosa che speriamo che venga chiarita fino in fondo la situazione. Il sindaco si è abbattuto fino a tal punto da dove riuscire e sbattere la porta, no? L'ha mai capitato di rimpiangere il sindaco Cattaneo? No, onestamente no. Ben amministrata, dai diciamo ben amministrata. L'unica cosa che avrei da dire è sul ciottolato, che è molto fastidioso camminarci sopra, dà fastidio, quindi quella è l'unica cosa che cambierai della città al momento. Non la conosco ancora bene, si vedrà poi nel tempo, se avrò altri giudizi ecco sulla città. Tu sei qua a Pavia perché? Per lavoro. Secondo te è una città che offre lavoro? Non saprei, io diciamo che lavoro qua ma sono molto in zona, non sto fisso nel posto, non saprei com'è lavoro qua nella zona. L'unica cosa che so appunto sono i bar che ce ne sono una caterva. A livello turistico potrebbe essere interessante. Cosa da visitare sì, effettivamente c'è, poi comunque anche la zona del circondario di Pavia offre abbastanza, quindi secondo me è una città abbastanza vivibile per quel che posso vedere fino a questo momento.